Il Festival Ammutinamenti Eleonora, in che cosa consiste questa performance? Anche per noi è un'esperienza nuova, hanno scelto alcune vetrine di Ravenna e alcune compagnie faranno una performance improvvisata, spostandosi da una vetrina all'altra. Per poi finire al Caffè Fellini dove c'è l'ultima parte, dove tutte le compagnie improvviseranno. E quindi è un modo anche per entrare in contatto con i non addetti al lavoro e quindi vedere quelle che possono essere le relazioni. E quindi anche per noi è un'esperienza nuova per cui alla fine potremo dire poi quello che rimane dell'esperienza. Il Festival Ammutinamenti Il Festival Ammutinamenti Il Festival Ammutinamenti